Un incontro convegno su un tema quanto mai interessante, Taurania, quale futuro, voluto fortemente dal sindaco di San Marzano Cosimo Annunziata e partecipato poi dai sindaci Nunzio Carpentieri di Sant'Egidio del Montalbino e Cosimo Ferraioli di Anni. L'incontro ha visto la partecipazione massiccia degli operatori della zona industriale Taurania. Il convegno si è protratto per alcune ore ed ha sviluppato possibili progetti per lo sviluppo del sito, necessità di infrastrutture, nascita di una struttura consortile e progetti per il rilancio della medesima zona industriale. Alla fine dell'incontro soddisfatti sindaci ed operatori che si sono ripromessi di rincontrarsi a breve tempo per passare alla fase attuativa dei progetti posti sul tavolo della discussione.